Allora, grazie, grazie a tutti perché avete partecipato, perché avete dimostrato veramente il vostro sostegno, il vostro credere nel progetto e nella squadra formata, grazie principalmente a Filippo che ci ha cercati uno per uno, ci ha trovati e ci ha fatto lavorare insieme, ci ha insegnato a lavorare insieme. Grazie a tutti, molto grazie a voi, in bocca a tutti, a te, a tutti, a tutti, a tutti, a tutti, a tutti, a tutti, mi mancate voi due, tre, quello che vi ho visto, sì, ma adesso speriamo di riuscire a vederci di nuovo tutti insieme, come l'altro, e qui usciremo, ecco, ecco, è prebellissima, Eugenia, sono Valeria, salutati, ciao Valeria, ciao a tutti, ciao a tutti, sono una bella famiglia, davvero, è vero, è vero, ciao a tutti, 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 ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a Luisa. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao. Ciao. Ciao.